Ti si sta aspettando, devi cercare di ascoltare i dottori, prendere le medicine, mangiare, perché lei aveva smesso di mangiare, si strappava tutti gli aghi, tutte le cose possibili. È una storia lieto fine quella di una signora ricoverata nel reparto di malattie infettive, malata Covid, malata peraltro grave, dopo aver rifiutato le cure e persino di alimentarsi, grazie ad un'idea del primario, il dottor Danilo Tacconi, è riuscito a vedere le figlie, seppur attraverso una finestra e poi è andata via via migliorando, a breve sarà dimessa. Gioconda, 73 anni, residente in Val D'Arno, aveva deciso di lasciarsi morire nel suo letto Covid, da 40 giorni ricoverata ad Arezzo in malattie infettive, poi in terapia intensiva, 6 giorni intubata e quindi con il casco per la respirazione. Aveva deciso che non valeva più la pena di lottare, poi l'idea del primario Danilo Tacconi di farle vedere dalla finestra, la sua camera e al piano zero della palazzina di malattie infettive, le figlie e lei ha ripreso a curarsi e ad alimentarsi. Poter innanzitutto rivedersi è stata un'emozione unica e aiutarla a sopravvivere per sconfiggere questa bruttissima malattia e vedere anche che in tre giorni ci sono stati dei grossissimi miglioramenti, è stata veramente un'emozione unica, credo per noi, per lei e anche per i medici, poter capire che quello che avevano pensato loro di fare è il risultato ottenuto che volevamo tutti. Quanto conta l'aspetto emozionale, psicologico in un malato Covid? È assolutamente importante, noi sappiamo che l'approccio psicologico è fondamentale anche per le altre malattie, ma in una malattia in cui molto spesso si sta soli, si sta isolati è assolutamente fondamentale. Quindi dobbiamo fare di tutto per cercare di spezzare questa cosa e di avvicinare il paziente ai familiari con tutte le modalità possibili. La reazione è stata assolutamente positiva, adesso la signora mangia, accetta le terapie e diciamo siamo speranzosi di una prossima dimissione. Io posso dire che nonostante tutto, questo l'avevamo già detto a prescindere, anche se non ce l'avrebbe fatta, che veramente siamo fortunati perché siamo in una realtà in cui non c'è l'indifferenza, ma si cerca veramente di lavorare con coscienza.